e ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono mr mario e oggi siamo tornati su minecraft ragazzi ho scambiato skin se non lo vedete ora lo vedete e oggi vorrei provare a fare due cucce per i cani aspettate che rimettervi solo in prima persona ok ragazzi possiamo partire direi prima di tutto direi di farla qui si potrebbe andare bene quindi ci serviranno allora questi blocchi da questi assi da bete e questi scalini ci serviranno che non trovo però gli scalini da bete eccoli però forse è meglio scalini di un altro colore tipo tipo questo scalini d'acacia va bene possiamo iniziare allora le cucce saranno tipo così e ok più o meno possiamo dire che non è proprio soddisfacente un maiale devo un maiale tipo alla velocità di valentino rossi hmmm ragazzi mi sa di no mi sa che con è abbastanza cioè non è proprio il massimo diciamo che fa un po schifo d'accordo ragazzi non mi piace per niente quindi la battiamo quasi tutto perché un pezzo va benissimo ok io direi di provare a fare una roba così ecco qua si proprio così puoi fare così ecco qui così mi piace già molto di più però sembra un capanna adesso perché è molto più grande diciamo che troppo ragazzi veramente non so proprio come farla questa cuccia perché oddio ho aperto la casa un attimo mi è venuta un'idea ragazzi mi è venuta un'idea ragazzi volevo farvi vedere i villager che sono boh sono spariti c'era un bug nell'altra puntata dove c'erano i villager in casa mia e in verità non è solo in casa mia andiamo fuori allora potremmo provare a fare una roba così si potrebbe piacermi si diciamo che ci sta ci sta ci sta no beh troverò un modo ok ragazzi diciamo che ci può piacere ora prendiamo delle ossa e poi un uovo di lupo che credo sia sì questo tac sono sbagliato ok ragazzi questo è il nostro nuovo cagnolino siediti muori ok 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 ora la sua intenzione oh dove vai oh sei qui oh vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua siediti e stai qui ok adesso avevo intenzione di prendere avevo intenzione di prendere tipo pastone sì così e poi se qui c'è il guinzaglio qui non c'è in questa versione non c'è perché ragazzi sul computer c'è il guinzaglio per non far scappare per non far scappare i cani ecco e qui non c'è ecco benissimo pesca cosa dovevi pescare scusa no vediamo proviamo a vedere se riesco a trovare un gatto cioè un pesce scusate che sicuro che sto facendo quant'è lunga sto canale pesca quindi dovrei provare a fare in un altro modo perché c'è un maiale lì vabbè cose a caso devo riuscire a farmi seguiti dal cagnolino quindi magari se provo a riprendere le ossa spostata sta testa se potesca riprendere l'osso e farlo alzare eh eh vieni qui sieditemi vieni qui cagnolino vieni vieni bravo vieni vieni qui vieni qui cagnolino cagnolino piccolino vieni qui muore no raga non riesco a farlo venire qui è arrivato è arrivato è arrivato ora lo lascio qui va bene e anche il cagnolino è soddisfatto ok ragazzi abbiamo fatto il cagnolino che carino che è va bene ragazzi nella prossima puntata vicino alla statua di Steve avevo intenzione di fare la statua dell'enderman e probabilmente sarà una bella cosa quindi dopo la tour Eiffel che è stato un successore perché mi piace tantissimo non pensavo uscisse così bella pensavo di peggio veramente invece mi è uscita una cosa bellissima che bello ah quanto mi piace questo gioco va bene ragazzi se il video vi piace lasciate un commento e un mi piace qua sotto commentate iscrivetevi noi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi ciao ciao ciao